15 uomini, 15 uomini, sulla casca del mondo 7 febbraio 1959 viene trasmesso dal primo programma nazionale RAI L'Isola del Tesoro Lo sceneggiato, tratto dall'omonimo romanzo di Robert Louis Stevenson è diretto da Anton Giulio Maiano celebre resterà la sigla 15 uomini sulla cassa del morto di Simoni e Lavagnino 15 uomini, 15 uomini 15 uomini, 15 uomini su la cassa del mode Grazie.